Siamo qui con Katia Coppola, vera mattatrice di giornata, oggi ha insegnato un sacco di gol, oggi giornata possiamo dire all'insegna del divertimento e dell'amicizia, però fa sempre bene insegnare e giocare bene. Sì, è stata una bella esperienza sia per noi sia per le altre ragazze, ringraziamo per l'ospitalità, speriamo di aver dato abbastanza divertimento per tutti. Ecco, questa giornata oggi è stato un bello spot per il calcio femminile che come stiamo dicendo anche prima col mister, in Italia è in continua crescita, ricordiamo che a livello giovanile solo da qualche anno c'è stato qualche risultato importante come il terzo posto delle under 19 mondiali di qualche anno fa, quindi ripeto, questo è un bello sport per il calcio giovanile. Sì, è molto bello, speriamo che possa crescere, purtroppo siamo ancora indietro rispetto ad altre nazioni, però piano piano speriamo di riuscire a raggiungerla. Ancora c'è tempo di programmare, fasi europee, fasi mondiali, quindi davvero si sta calburando bene. Sì, speriamo in bene, dai.